All'interno del comprensorio sanitario di Villa Stewart è presente l'Istituto di Medicina dello Sport di Roma FMSI CONI. Qui si possono effettuare visite di idoneità delle varie discipline sportive, seguiti da un'equip di prim'ordine, con tutti gli strumenti necessari per gli esami. Lo sport non va mai preso a cuor leggero. L'Istituto di Medicina dello Sport di Roma interagisce con il settore sportivo della casa di cura, denominato Villa Stewart Sport Clinic, nome che contraddistingue il gruppo plurispecialistico di professionisti e servizi, che da anni ha maturato un'esperienza significativa quanto specifica nella gestione di tutte le necessità dell'atleta professionista nelle diverse discipline sportive, dalla valutazione funzionale alla diagnostica, dalla chirurgia alla riabilitazione, passando per il ritorno in campo. L'equip si prende cura dell'atleta con forte dedizione e competenza, lavorando sui professionisti ed acquisendo giorno per giorno esperienza e nozioni sul campo, utili per impostare diagnosi, terapie e percorsi di recupero ampiamente testati. Le conoscenze vengono poi reinvestite nella cura di tutti gli altri pazienti. Per questo motivo, atleti e nonne, professionisti e dilettanti possono essere seguiti a 360 gradi. Gestire ogni paziente con gli stessi standard qualitativi e professionali approntati per l'atleta professionista è uno dei principali obiettivi della collaborazione tra Villa Stewart Sport Clinic e l'IMS. Per tutti i campioni, per tutti i pazienti. Grazie a tutti i campioni, per tutti i pazienti. Grazie a tutti i campioni, per tutti i pazienti. Grazie a tutti i campioni, per tutti i pazienti. Grazie a tutti i campioni, per tutti i pazienti. Grazie a tutti i campioni, per tutti i pazienti. Grazie a tutti i campioni, per tutti i pazienti.